Svelta, servo, i bagagli in stanza. E dite al vostro signore che non sono qui per lui, ma per un suo ospite. Manca poco all'arrivo dei Sanchez, i nostri fratelli spagnoli. Armando, disponiamo della migliore cacciagione per la cena. Con molto piacere, duchessa. A voi abbiamo rapito il fratello. E a voi, cara contessa, il marito. Caro signor Duca, non è avvertito nessuna mancanza. Adesso basta! Non accetto più questo processo in casa mia. Forse dimenticate che io posso permettermi questo ed altro. A voi, il falco! A te, fratello mio! A voi, Duca! A voi! Oh, mio signore! Perché non mi guardate? Sapete, il vostro viso d'angelo potrebbe allegrare il viandante stanco in cerca del suo cammino. Avanti, compite il mio sfatto. Oh, mio signore! Grazie a tutti.